Il principe Harry si è unito al resto della famiglia reale nella processione portando la vara della regina alla Westminster Hall, dove sua maestà giacerà nello stato, il duca di Sussex era in foto che sembravano asciugare le lacrime mentre era in piedi accanto a sua moglie, Meghan Markle. L'immagine ha suscitato un'ondata d'amore per il principe. L'utente di Twitter Chiocciola e Baldro va dichiarato. Il mio cuore si spezza per H, perdere una delle donne principali della sua vita è così difficile. Un altro utente Chiocciola Sabasmu ha detto, povero tesoro. Odio che debba piangere pubblicamente le perdite della sua vita. Le parole sono state riprese da Chiocciola Elev 11 che ha detto, sotto tutto questo, è solo un giovane a cui manca sua nonna. Si poteva vedere il profondo affetto che avevano l'uno per l'altro quando hanno girato la clip di Invictus Games. Punto. Un grande abbraccio a lui. X, in una dichiarazione dopo la morte di sua maestà, Harry ha reso omaggio a sua nonna. Ha detto, sono per sempre grato per tutti i nostri primi incontri dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontro con te per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento in cui hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato la tua amati pronipoti. con te per la prima volta come mio comandante in capo, io mi la durod zgio, io tu mi il churches. Con te per la prima volta come mio comandante in capo, io tu se non ci ero. Treviti con te per i nostri primi e volevo nemo"... Grazie a tutti.